Il Milan parla serbo e non solo, due acquisti in arrivo dalla Serbia appunto Pavlovic e Samargic come nazionalità e si parla anche di spesa piuttosto importante, certo non tantissimi soldi ma complessivamente il mercato del Milan comincia verso fine luglio ad attivarsi, ad accendersi. Dopo aver pagato la clausola da 13 milioni per Morata e in attesa di vedere se arriverà un altro attaccante in particolare Fulcrug, il Milan cerca appunto Pavlovic per la difesa, Samargic per il centrocampo e quest'ultimo dall'Udinese non è alternativo a Yusuf Fofana. Si parla comunque di circa 20 milioni di media di spesa per questi tre giocatori quindi non tantissimo ma complessivamente un investimento importante per rinforzare un Milan che però è partito piuttosto male sul mercato lasciando a Fonseca una squadra abbastanza poco convincente e molto precaria. Straini a Pavlovic del Salisburgo, nato il 24 maggio 2001, quindi 23enne, difensore centrale di grande stazza, di grande robustezza, contratto in scadenza nel 2027, ha una valutazione transfer market di 25 milioni, il Salisburgo chiede 30, il Milan propone 20-22, c'è speranza, c'è fiducia secondo i giornali. Poi bisogna vedere anche in questo caso se quanto è vera questa storia e lo vedremo andando avanti, c'è fiducia di poter abbassare il prezzo avvicinando la richiesta del Salisburgo alla proposta del Milan. Parliamo di un giocatore con piede preferito sinistro che tra l'altro ha già 38 presenze con ben 4 gol anche nella nazionale serba quindi una garanzia da questo punto di vista. Ha giocato in Serbia tra cui nel Partizan, poi nel Monaco, ha giocato anche nel Bruges, nel Cercle Bruges in Belgio, nel Basilea e ancora nel Monaco e nel Salisburgo dove si è trasferito a luglio 2022 pagato solo, si fa per dire, 7 milioni. E quindi la competizione dove ha giocato più partite, 50, è la Bundesliga austriaca a seguire il campionato serbo e ha anche già 12 presenze in Champions League e 10 in Europa League con quasi 2000 minuti complessivi. Un giocatore con caratteristiche molto precise dal punto di vista del suo approccio nella difesa, bene anche per l'impostazione, sicuramente il ruento, quindi un difensore roccioso, un difensore che dovrebbe essere di aiuto teoricamente per il calcio che Fonseca propone e direi anche proclama. Cioè un calcio di possesso, un calcio di dominio, un calcio offensivo in avanti per cui servono anche difensori che spezzano. Per quanto riguarda Samargic, l'estate scorsa era tutto fatto con l'Inter, poi è saltato per la questione con il padre agente con cui adesso il Milan sta dialogando e potrebbe non essere molto facile. L'Udinese che si è salvato davvero in extremis e deve un po' rifondare, forse non può più trattenere Lazar Samargic, il quale comunque non ha fatto una stagione brillante e memorabile. Nato il 24 febbraio 2002, quindi altro giovane per il Milan, che però ha preso il quasi 32enne Morata. È nato a Berlino ma appunto è serbo, con la nazionale serba però solo 11 presenze e 0 gol. Vale 20 milioni secondo Transfermarkt con un contratto di scadenza nel 2026, quindi c'è margine di trattativa anche da parte dell'Udinese. L'Udinese si parla di 15 milioni comunque per il cartellino, non tantissimo e è comprensibile la cosa considerato che l'Udinese ha la necessità sostanzialmente di farlo partire, di venderlo e di monetizzarlo, perché non avrebbe senso probabilmente nell'Udinese con gli obiettivi attuali dell'Udinese tenere Samargic, che può giocare ad un livello più alto se si mette di impegno chiaramente. Anche Samargic come piede preferito ha il Mancino, poi sappiamo che è un centrocampista di impostazione, un centrocampista di regia, un centrocampista di qualità, di tecnica, che fa circolare molto bene il pallone e ha giocato molto in Germania tra Hertha, Berlino e Lipsia, trasferendosi all'Udinese nell'estate 2021. Ed è la Serie A però il campionato con più presenze, 93 con 13 gol e 8 assist e poi ci sono le altre competizioni tra cui praticamente 0 a livello UEFA, ma da questo punto di vista avendo 22 anni ci può anche stare e quindi sarebbe un rinforzo importante per il Milan. Ma il vero grande acquisto per il Milan sarebbe, sarà, vediamo, Yusuf Fofana, davvero molto forte il francese del Monaco con 21 presenze e 3 gol nella nazionale francese, è nato il 10 gennaio 99, quindi comunque è un giocatore giovane, nell'età giusta per fare il salto di qualità. Il centrocampo del Milan comunque ha contato già degli innesti importanti la passata stagione, ma evidentemente si cerca anche altro. Fofana è un centrocampista di quali quantità, di grande intensità, anche lui grande pulizia nel gioco. Probabilmente non è la rapidità, la velocità, l'intensità, il suo pregio maggiore, ma la lucidità di gioco. E quindi in un contesto come quello del Milan, in cui forse Fonseca dice vuol fare questo calcio di dominio e di possesso, servono anche le caratteristiche probabilmente di Yusuf Fofana, che è anche malese come nazionalità, piede preferito destro. Ha giocato soltanto nello Strasburgo e nel Monaco, dove si è trasferito nel 2020 con un contratto che infatti scade tra un anno e questo favorisce ovviamente la trattativa per Yusuf Fofana, che vale 30 milioni e il Milan potrebbe provare a prenderlo per 20-25, sarebbe un'ottima cifra probabilmente. Ovviamente ha giocato per lo più in Ligue 1 e in Coupe de France come competizioni. A livello UEFA ha soltanto circa 20 presenze, poco più di 20 presenze, tra Europa League, qualificazioni Europa League e qualificazioni Champions League. Questo è il mercato del Milan che finalmente inizia a decollare, anche se si va ad infoltire forse troppo la rosa, per cui dopo queste eventuali operazioni in entrata serviranno anche delle cessioni. Grazie.